ci ritroviamo qua oggi in questo banner con un unico obiettivo abbiamo un sogno nel cuore abbiamo un sogno nel cuore ragazzi questo è l'obiettivo di alla carica pt5 andiamo a pt15 nel banner della engulfing quattro stelle qua anche io come prima ragionavamo è il mio account quindi preferirei mosmoon o la claymore dovrei avere una copia di entrambi se non sbaglio ma non sono sicurissima sulla claymore il mosmoon mi sembra di sì però ecco uno dei due sarei contenta proprio perché sono armi che ho poche volte rifainato i sacrificial ne posso fare rifain 5 probabilmente almeno due quindi sapete giocando dal day one avendo pullato tanto ci sta quindi questo è quindi va bene siamo a pt15 tranquilli tranquilli e via ma lì grazie per il follow benvenuti in live andiamo a pt25 pt25 quattro stelle a solito discorso quattro stelle pg con lei dori e laila sono gli unici che devo costruire perfetto mosmoon eccolo qua mosmoon eccolo qua deja vu doppio mosmoon buono ok due di fila non me li aspettavo sinceramente però va bene ok doppio mosmoon io sono arana grazie per il follow benvenuti in live e andiamo a pt35 quattro stelle top maru ce l'abbiamo dai ma che cos'è va beh va beh deve compensare con adesso tutte le aranda che mi tira dietro ragazzi non non vi preoccupate alla prossima multi engulfing va bene visto mi state ascoltando abbastanza e andiamo a pt45 prossima multi engulfing ci andiamo nel chilling ci teniamo tutto il resto per item quando esce va bene doppio mosmoon doppia anzi doppia engulfing pt45 doppia engulfing giusto no qui no qui no qui no vabbè eeeh non si è ora doppio star official no però doppia arma di nuovo di fila ma si è rotto tutto qua ma si è rotto tutto doppio anche yunjin c'è anche un altro molti con 4 4 stelle gradirei grazie molto gentile yunjin c6 quindi altri star glitter che si aggiungono molto bene perché devo prendere la costituzione di keia quindi ogni star glitter che si aggiunge è molto comodo che devo fare keia c5 ok 3 3 4 stelle andiamo a 55 un po early dai 55 dai no dobbiamo arrivare a 65 va bene ok ancora un'altra wow 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 maru ottimo bene che mi stanno uscendo più queste di quelle che c'ho sempre perché tanto quelle al tavolo rifanate un sacco di volte così almeno non che la utilizzi però non si sa mai magari esce qualcuno su cui va bene ce l'ho lì la rifaino qualche volta anche se io di solito ho una mia legge che non rifaino finché non ho fatto le armi R6 nel senso che anche se rifaino me ne avanza una cose mie 65 ok la prossima che tra l'altro potrebbe essere la prima della prossima perché non partiamo da 64 quindi la prossima c'è il 5 stelle ah ecco ci sono anche i favonius lands per yunjin ora ho bisogno di voi ora ho bisogno di voi ora ho bisogno dello spam di raiden perché nella prossima c'è il 5 stelle quindi quindi la prossima doppia favonius doppia favonius lands vabbè stiamo a vedere andiamo la prima è pt66 quindi potrebbe essere già lei oppure se non lei pt66 è la prima pt66 si si la mia bimba pt66 easy easy chill ci siamo c'è una luce si la luce c'è potrebbe già essere la prima ok no allora la prossima è quella con la prossima è quella con il rate up maggiore no e adesso facciamo tutte la stessa cioè in realtà la proprietà è a calare 77 78 la porta fino alla fine eccola si la prima l'abbiamo presa si si a 75 tiriamo sotto tutti qua potrebbe esserci qua spesso esce anche 74 75 infatti è la gialla Angela grazie per i follow benvenuti in live qui può essere qualsiasi siamo prima del soft quindi questa era 66 67 67 spammate voi 68 probabilmente una delle ultime 69 70 ok 71 72 73 ci siamo ecco chi è che ha letto qualcuno in chat l'ha scritto aspetta che risalgo l'ho letto io cici fire fury fire fury adriano l'ha detto l'ha detto adriano segui il tuo cuore e la multi limite quando vai vai noi siamo belli carichi grazie per i follow grazie per i follow su tiktok c2 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 c Chile 2 3 3 3 4 4 Bene, adesso ti l'ho da multi e vedrai Questa è il 5 stelle, ripeti, multi Ah, cos'ho ancora... Due multi sono Due multi, sì Ci bastano Visto? Visto? Io lo sentivo e ce n'era un altro Non ti assicuro sia lei, infatti è Jin Va bene, Jin, Jin Però garantito, io me lo sentivo e ce n'era un altro Per questo ho detto insisti No, 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 manca ancora tantissimo Vedi la multi e le armi? Vedi la multi e le armi? Federi Shadow, grazie per il follow Avrò di live, hai visto la multi e le armi? Vai, andiamo Andiamo È quel momento Lasta, grazie per il follow Eccola! Visto la multi e le armi? Meno male, ci sono io che faccio questi predict Ragazzi, spam gigantesco Ci siamo, siamo a 74 Tiriamo la multi e il trick Abbiamo il 50 e 50 Incrociamo le dita Quando te la senti, Esther? Quando te la senti? Andiamo Senza pensarci Senza pensarci 5 stelle 85 Ho paura Mamma mia Ho paura 76 77 78 76 Eccolo oh rido aiuto oddio paura oddio dicevo che cavolo è questo era proprio 76 e si fede no non lì scogliattolo girati c'è uno scogliattolo io l'altro giorno vediamo se c'è c'è un quesello proci no c'è un povero oh mamma siamo attrezzati ragazzi spammate spammate spammiamo spammiamo io non vado io mi rifiuto di guardare vai avanti se io non è scaso non guardo l'immagine ma guardo la lucetta dal basso ok va bene 34 no 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 stai bello centrato con il mouse se si arriva benissimo 35 35 no 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 perché ho visto la scarpetta non è lì no no è il violetto sbagliato questo che fastidio diventa pure elementale se l'hai build a fisiat tu devi anche cambiare la build quello è bello della c2 quando vuoi zen questa è la multi 5 stelle ok l'ho sentita l'ho sentita l'ho sentita si si non era quella non dobbiamo cioè me ne sono persa una no no io me la sentivo proprio e anche dei dist grazie per la saldina con prime con la musica non si sbaglia vai anto visto con demo slayer non si sbaglia con demo slayer si vince il 50 e 50 e anto di quello che dici sempre da quando pulli qui non si perde un 50 e 50 andiamo a 50 se non sbaglio se no davide mi corregge aiuto aiuto 42 43 44 45 46 47 48 49 è l'ultima 50 sì vinta multina 5 stelle il primo dovrebbe essere un 4 infatti è il moon's moon che è la 65 la prossima è la 66 quella è il rate up niente lo skyward atlas oh c'è sempre un libro è incredibile c'è sempre un libro quando si perde il 50 e 50 c'è sempre un libro ma io non demordo e qui c'è anche l'engulfing qui c'è anche l'engulfing datele un attimo da arrivare datele un attimo mi dovete ascoltare mi dovete solo che ascoltare mi dovete solo che ascoltare complimenti io l'avevo detto che qui c'era io l'avevo detto bravo stefano bravo stefano bravo stefano bravo bravo veramente bravo veramente bravo veramente 43 44 come i gatti io l'avevo detto che Raiden amava i gatti 44 come i gatti 36 5 stelle eccoti la tua Raiden early pity gentilmente offerta da me dicevamo 27 Sara 29 30 31 32 33 34 35 36 pity 36 Raiden 40 prima 4 ste 5 stelle pity 40 Sara 5 stelle di nuovo pity 40 30 that's here grazie per il follow cioè per il follow grazie per la sub benvenuto tra i sub del canale pity 40 albi o Raiden c1 o garantito per il futuro vediamo quindi eravamo a 30 quindi 31 32 33 33 34 34 35 pt 35 raiden c1 ma 75 vediamo se per caso c'è l'early si meno male meno male ci risparmiamo una multi ok qui va bene tutto possibilmente raiden ma va bene tutto ok 66 67 68 69 79 71 72 vabbè uno doveva pure arrivare oggi wow gg bel pg questo lo uso spesso in abyss sorry 63 63 64